Il paziente con scompenso cardiaco deve, prima di ogni altra cosa, essere conosciuto nei suoi aspetti più particolari. In prima istanza noi dobbiamo conoscere perché il paziente ha cominciato a sviluppare questa malattia, quindi dobbiamo ricercare la causa che ha determinato lo scompenso cardiaco. Il secondo punto è quello di stabilire se abbiamo iniziato o stiamo seguendo un percorso corretto nell'impostazione della terapia farmacologica. Il terzo punto, che non è meno importante degli altri due, è conoscere quelle comorbilità che fanno parte della malattia scompenso cardiaco. Lo scompenso avanzato è spesso sottovalutato come entità, cioè il clinico non abituato a curare questa patologia spesso si fa sorprendere dai sintomi e non segue il percorso che dicevamo prima di conoscenza. Il malato può andare incontro a un'evoluzione della sua malattia che lo porta a essere definito come uno scompenso avanzato. Se il nostro paziente ha una classe di scompenso avanzata, ha una frazione di eiezione molto ridotta, tende a avere delle ospedalizzazioni frequenti, rimanendo con dei parametri di gravità della malattia cardiologica come il BNP molto elevati, questi malati tenderanno a essere in un percorso, in un profilo più avanzato. Questo è il nostro obiettivo, riconoscere quando il paziente è entrato in questa definizione, perché raramente è possibile che torni indietro, quindi rimane un paziente che va attenzionato nella sua gravità e noi dobbiamo essere in grado di averlo definito e di avergli dato questa etichetta. Per questo riconoscere il malato con scompenso avanzato oggi non è difficile, ci sono dei criteri precisi che però vanno conosciuti e una volta che abbiamo definito il malato con scompenso avanzato sappiamo che in un momento della sua vita prossima potrà andare incontro a delle terapie differenti da quella farmacologica che potranno essere almeno di aiuto per la qualità di vita e la sopravvivenza degli anni successivi. Abbiamo imparato una grossa lezione che dobbiamo essere un pochino più precoci di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché il malato molto spesso arriva in uno stadio molto avanzato della sua malattia quando il posizionamento del VAD potrebbe essere troppo tardivo. In questo modo anche oggi sappiamo che la maggior parte del VAD vengono messi nelle classi di scompenso cardiaco Intermax molto più avanzate, quindi bisogna sapere che bisogna anticipare il nostro percorso. E come si fa ad anticipare il nostro percorso? Si cerca in genere di selezionare una popolazione più ampia condividendo con il centro che impianta VAD le caratteristiche più utili alla identificazione, creare delle schede di raccolta di informazioni, creare dei registri pronti a far portare il malato verso questa soluzione terapeutica. Oggi questo non avviene, gli ospedali e le divisioni di cardiologia che non impiantano, non hanno delle reti di raccolta con i centri che impiantano VAD, questo deve diventare una prassi molto più comune. Noi dobbiamo sapere come clinici che non impiantano qual è l'indicazione precisa, quali sono i paletti che il centro VAD ha posto e metterli in queste schede di registro e procedere con loro alla selezione dei pazienti. Quindi essere più precoci vuol dire dare più possibilità al nostro paziente di accedere a questa importante terapia non farmacologica. All'avello territoriale forse no, io non credo che siamo pronti a farla gestire nel territorio, dovremmo però fare già un passo importante che è quello di dire che non è che tutti i pazienti che vengono impiantati con il VAD devono essere seguiti dal centro che impianta il VAD, perché se facciamo così il centro non riesce a gestire tutta la parte di indicazione precedente, di impianto e il successivo decorso nel tempo. Bisogna che le cardiologie, soprattutto quelle che si occupano di scompenso avanzato, anche se non hanno un programma di trapianto cardiaco e il VAD, ricoverino nuovamente i loro pazienti per i controlli, li rivedano, li seguono nel follow-up, mettendo anche in campo oggi delle tecniche di controllo dello stesso VAD, ma anche del quadro clinico che si possono fare a distanza con le nuove possibilità che ci dà la telemedicina e il telecontrollo. Quindi il primo passo, credo più che parlare di territorio, è quello di riportare il malato all'interno dei centri che non hanno programma di impianto VAD, ma che possono seguirli perché hanno la cultura e le conoscenze dei device. Poi il rapporto con il centro che impianta dovrà essere continuo e dovrà prevedere dei momenti di formazione e di percorso comune per decidere quando è il momento di cambiare strategia, ma sicuramente il primo passaggio che oggi non avviene ancora è quello di ridare ai centri che non trapiantano la possibilità di seguire. Grazie.